Signori, buonasera, grazie per la vostra presenza. Sono capo al museo della cooperatura Amida, che è una società che ha l'onore di collaborare con Galleria Cattedrale alla promozione di questo luogo e di altri luoghi che sono un vero e proprio museo diffuso nel territorio e nel centro storico di Comerzano, frutto della passione di Lucida Tauro, che è una novella vicinata degli anni 2000, a cui veramente grazie per questa interessantissima iniziativa. Questa di questa sera è una delle iniziative che rientra proprio nella promozione della Galleria, è uno dei sei luoghi di cui si compone la Galleria e che vi invitiamo a visitare anche nella giornata di domani, di domenica, con le aperture delle sedali dalle 10 alle 21. Stasera presentiamo questo libro su ispirazione del dottor Labate, Angelo Labate, che ringrazio, di Bianca Tranni, che non ha bisogno di presentazioni. Magari poi lascio fare a loro. Certo la parola Mariano Rizzo, che è un altro autore a cui Comerzano deve molto, perché molta tra la propria produzione riguarda i propri personaggi di Comerzano, da Paolo Finoglio, a Gian Girono II, a Qualiva d'Aragona, romanzi storici molto belli, fascinanti, interessanti, che vi invito veramente a leggere, se non l'avete già fatto. Mariano, professoressa, buon lavoro a voi. Grazie. Grazie Carlo e grazie a tutti per questa accoglienza calorosa, credo che questo sia il termine più adatto, perché avete sfidato l'ondata di caldo per essere con noi stasera e quindi la vostra presenza è ancora più preziosa. Benvenuti, io sono veramente molto felice di essere qui stasera, perché Comerzano per me, l'ha detto Carlo, è ormai la mia città d'adozione, ed è una città bellissima perché racconta la storia e racconta le storie. Per quindi il luogo in cui siamo, noi qui siamo nei sotterranei del castello di Comerzano, che è stato teatro di tantissimi eventi storici che hanno un po' plasmato il nostro territorio, la nostra storia, quello che siamo noi oggi, perché quello che siamo noi oggi è l'effetto domino di quello che è successo nei secoli passati. E proprio da queste stanze sono passati tanti personaggi che a me, come è stato appena detto, sono molto cari. Abbiamo nominato Gian Girolamo II, ma potremmo fare tanti altri nomi, però mi vorrei soffermare brevemente per introdurre la nostra ospite sulla moglie di Gian Girolamo II. Isabella Filomerino, passata alla storia, con una tradizione però molto postuma, come l'aspide delle Puglie, perché si dice che fosse tanto crudele, tanto efferata quanto lo era suo marito. Ecco, questa, senza dilungarci troppo perché poi magari ne avremo da parlare in futuro di Isabella Filomerino, però questo personaggio incarna un archetipo a cui, anche se non ci pensiamo, c'è molto familiare che la donna, quindi la femminilità, di potere è crudele. Quindi queste tre caratteristiche, diciamo, ci sono molto familiari perché siamo abituati a ascoltare le storie di donne crudele al potere sin dalla nostra infanzia. Pensiamo alle fiabe, quando parliamo di regine cattive, ci viene in mente Biancaneve, ci viene in mente tante fiabe in cui c'è questa figura crudele di matrigna o di sovrana cattiva, ma anche la musica lirica, no? Naturandot, che uccide i poveri principi che non sanno rispondere ai suoi indovinelli. E sempre per capire quanto sia labile il confine tra le storie e la storia, in realtà anche la storia ha queste protagoniste cattive. basti pensare, chiedo scusa, un po' di silenzio, grazie, basti pensare ad Erse Bedbatori, la contessa di sangue che realmente uccideva 40 vergini all'anno per farsi il bagno nel loro sangue e rimanere giovani. Per passare per Lucrezia Borgia, tante donne, la cui crudeltà magari in tempi recenti è anche stata messa un po' in discussione perché ci sono stati processi di damnazio memorie, però ecco, il prototipo, l'archetipo della donna al potere è crudele, ci è molto familiare, perché fa parte anche del nostro DNA, in quanto pugliesi, in quanto parte della storia della Puglia, lo abbiamo visto con Isabella Filomarino, però quelle che ci presenta oggi Biancatrani sono quattro regine sciagurate di Napoli, quattro donne che in tempi diversi, in epoche diverse, si sono sedute sul trono di Napoli e sono passate alla storia, non tanto per la loro abilità politica, per la loro bravura, insomma, ma perché erano donne cattive. Io non mi soffermerò molto, tra poco lascerò la parola a Bianca, come ha detto Carlo, non ha bisogno di presentazioni Biancatrani, però giusto, prima di lasciargli la parola, visto che comunque io l'ho presentata diverse volte, abbiamo condiviso anche il palco come autori, siamo stati anche per un breve periodo colleghi di casa editrice, e vorrei fare un piccolo sondaggio velocemente tra voi. Chi di voi non conosce Biancatrani? Magari è venuto qui per accompagnare qualcuno, così, per alzata di mano. Chi non la conosce. Chi non la conosce. Io. Quindi magari siete venuti qui per, beh, Bianca qui, insomma, una nutrita schiera di fan, vedo, va bene. A queste due signore dico che, se non conoscete Biancatrani, alla fine di questo incontro ve ne ricorderete, ve ne ricorderete molto bene. A tutti gli altri auguro buon ascolto, perché sapete cosa aspettarvi. Una buona serata, passo la parola a Bianca. Grazie. Il primo grazie, lo devo dire, a questo. Tutti avete capito che cos'è. Lo strumento che il dottore Labbate mi ha fornito ridandomi la vista sana. Quindi grazie dottor, per gli occhi. Poi per avermi proposto alla sua gentile consorte, che è un critico d'arte, oltre che un appassionato. Io ho visto un sesto delle sue gallerie che è questo, ed è meraviglioso. Veramente, voi conversanisti avete fatto un acquisto con queste gallerie private di questa signora che ama l'arte. E la cosa che mi stupisce ancora di più è trovare di questi tempi, quando il degrado culturale si tocca con mano ovunque, trovare un mecenate. Perché questo è un mecenate. Cioè persone che sono disposte a dare, a investire la loro ricchezza materiale e culturale per gli altri. Questa è stata la grandezza dell'Italia. Per secoli. Noi abbiamo un certo Lorenzo il Magnifico, che ha speso miliardi, diremmo oggi, e di quegli investimenti. Firenze vive ancora oggi, dopo cinque secoli. Qualcuno ha detto, disse, scuselo di qualche cretino, che con la cultura non si mangia. Firenze sta mangiando grazie alla cultura che gli ha lasciato Lorenzo il Magnifico, con tutti gli artisti, eccetera. Sta mangiando da cinque secoli. Ma non solo Firenze. La cultura è il sale della vita. Provate a mangiare senza sale. C'è gusto? No. Quindi qualunque cosa si faccia, dalla politica all'arte, all'amministrazione, bisogna farlo con un substrato culturale. In fondo cos'è la cultura? È semplicemente l'approfondimento, la riflessione sui problemi, sulle persone, sulle situazioni, che poi ci creano un habitus capace di leggere, interpretare e realizzare le cose nuove. Questo ve lo dice una storica. Io sono una storica, come la signora è una critica d'arte per passione, io sono una storica per passione e poi per professione anche, perché uso il metodo storico, mi applico, studio, eccetera, eccetera. Ma ecco, mi porta il famoso episodio di due grandi storici, Lefevre e Marco de Bosch, credo, sì, che andarono a un convegno di storia a Stoccolma, nord Europa. Allora, come lasciarono, era il maestro e l'allievo, come lasciarono il bagaglio? Beh, usciamo a vedere tutta la città. Da dove cominciamo? E allora dice lo studente, cominciamo dal parco della realtà, che è la cosa più antica di Stoccolma, perché noi siamo storici. Allora, su volte i maestri dicono, proprio perché siamo storici, partiamo dalla cosa più moderna. Ecco il senso della storia. La storia ti fa capire il presente, la modernità e ti fa proiettare verso un futuro, vi spiego, grazie a quello che tu sai, hai vissuto tante volte, per interposta persona, del passato. Quindi questa è la lezione dello storico. Lo storico non è uno che ha la testa voltata all'indietro, per cui guarda solo il passato. Lo storico è uno che sta immerso nel presente, sa leggere il presente, sa leggere il presente, grazie al passato. Lei è di Padova, signora, mi ha ricordato un mio maestro universitario, che era nobiluomo da Verona, si chiama Guiscardo Moschetti nobiluomo da Verona. Nobile da Verona. Nobile, nobile. Quindi lo conosceva anche, eh beh, era professore. Facevo quindici volte ne sa. Eh beh, era terribile, io grazie a Dio lo feci solo una volta e presi tre del lode, e quindi la mia vocazione, era uno storico del diritto. Non dimenticherò mai la sua battuta. Parlava della, sì, della seconda guerra mondiale, no? Nazismo, fascismo, persecuzione degli ebrei, eccetera, eccetera. Certo, mentre ci raccontava questa cosa, mentre, eh? È il fiol d'un can! Noi rimanevano i barei, il fiol d'un can, cioè il traditore, lo chiamò il figlio di un cane, con espressione dialettale, veneta. E ci colpì come lo storico usava la cultura popolare per definire una figura terribile che è quella del traditore, che poi faceva arrestare i partigiani e compagnia bella, eccetera. È il fiol d'un can, e chi lo dimentichava mai? Voi pensate a una lezione di Scardo Moschetti sui Longobardi? Tutti sapete chi erano i Longobardi? No. Questo popolo che venne dal nord, occupa la Lombardia e non solo la Lombardia, occupa Spoleto, occupa Benevento, occupa un po' di polvo, un po' di tutto. Però i Lombardi ritengono che siano solo i loro antenati, perché, sai, la Lombardia, Milano e compagnia bella. A proposito dei Longobardi, adesso ho perso il filo, la stanchezza, il caldo, cosa fa? Ma lo riprenderò a breve, sempre a proposito di Scardo Moschetti. Ah, ecco, la sua lezione. Comincio con queste tre parole. Si quis Langobardus e Grotaverit. Se qualcuno sa il latino, capisci che vuol dire. Se qualche Longobardo si ammalava, che succede? Tre lezioni su queste tre parole. Tre lezioni per spiegarci come questo popolo nomade divenne residenziale e divenne il fondatore dell'italianità. Perché molte, ma forse la maggior parte delle parole italiane viene da Longobardo. Noi pensiamo in tutto al latino. No, oltre a andare al latino, ovviamente. Ma per esempio, il mio nome, io mi chiamo Bianca. Da dove vienes tu Bianca? In latino non esiste Bianca. In latino è Candidus, per dire il bianco. Si dice Candidus. Cioè, un amico di Roma che era un latinista, mi chiamava Candidus. Ma perché mi chiami Candidus? Perché in latino Bianca è Candidus. Mentre in Longobardo è Bianca. Ma per dire questo e tant'altro. E quindi, il grande storico, su tre parole, ci costruiva tutta la storia di un popolo, la storia di una nazione italiana che nasceva con i Longobardi, con la lingua. E soprattutto, qual era l'esempio di questo Longobardo del Grotavit? I nomadi, tutti i popoli nomadi, quando uno si ammalava si lasciava sul ciglio della strada e loro continuavano. E quello moriva lì, di morte naturale. Invece, se Robert, che è l'editto di Rotri, lui ci stava spiegando l'editto di Rotri come storico del diritto italiano, se Rotri prevede che uno si ammala e se si ammala ci sono delle conseguenze giuridiche, vuol dire che non è più nomade. Vuol dire che ha cominciato a mettere le radici e quindi si rifà al diritto romano, perché l'editto di Rotri è la prima legge italiana, vi spiego? Che però risente di quella latina e risente anche degli usi dei Longobardi. E quindi, pensate, questo grande professore, novi luogo da Verona, ci spiegava tutto questo, grandi fenomeni storici, partendo da queste tre parole. Cosa voglio dire? Che la storia può essere anche molto sintetica, con degli esempi, con delle frasi, con dei personaggi, però poi da quelli bisogna sviluppare il discorso. E così è per le mie care regine. Care proprio no, però siccome l'ho studiato, quando uno studi si appassiona anche le cose che studia. E il mio punto di vista è esattamente opposto al suo, perché lui ha fatto l'elogio delle regine cattive. Tanto questo è un libro sulle regine cattive, ce ne sono tante, nelle favole, qui a conversare, no, io sono partito dalle regine buone, cioè dal topos della regina. Infatti la mia introduzione riguarda il concetto e la figura della regina. Chi è la regina? La regina è un modello, ma è un modello positivo, non negativo. Pensate alle bambine, ma chi non ha giocato da piccolo a fare la regina? Quando i litigi fra come vai, no, la regina sono io, no, la regina faccio io, perché si voleva interpretare la figura più bella della donna, con la corona, con i gioielli, con i vestiti, con il potere. Con il potere. Quindi l'icona della regina è un'icona positiva. E io parto, pensate, proprio dall'ultima grande regina, Elisabetta II d'Inghilterra, perché era morta per un anno prima, io stavo studiando, stavo scrivendo, e rimasti veramente impressionati, io come tutti penso, come le sue sequi, il suo famoso funerale, è stato seguito in tutto il mondo, il mondo visione. Lo seguire in Australia, in America, in Indie, ovunque, non solo nel Camo Alto, c'è un legame anche politico e commerciale, no, ovunque, perché? Dicevo, ma perché tutta questa popolarità. Infatti, sta regina è che ha fatto granché, ha fatto i suoi dovere, ha saputo fare la regina, ha mantenuto uno stile, una plombo, gli passava tutto da sopra, tutti gli scambri dei figli, delle morre, come acqua sul marmo, e rimaneva imperterrita, impassiva, sempre perfetta, col suo cappello, con le sue spille, i suoi gioielli, eccetera. Quindi, un'icona positiva, tant'è che gli inglesi l'adorano, l'adorano. Appena di andare in Inghilterra, io ero ragazzina, rimasti sorpresa a vedere, mi pare che in un negozio, in una casa, mi ricordo dopo, un'edicola con la figura di Elisabetta e il cielo vicino. Oddio, dico, ma questa è la vedono come una santa, ma questa è la regina, non è una santa. Altro piccolo episodio, mia figlia lavora all'Europa, a Commissione Europea, dove ci sono di tutte le nazioni, inglesi, tedeschi, francesi, tutto di più. Una mattina il loro collega inglese si presenta con una torta, una candela, e se già vuoi dire che è il tuo compleanno, chiedo i colleghi, no, è il compleanno della regina. Tutti i colleghi, tutti i repubblicani, francesi, italiani, tedeschi, si misero a reddere, a sganasciarsi, da Elisabetta, ma tu porti la torta per la regina, ma ce ne porti a nudo la regina d'Inchilterra. Questa fase si offese e rispose con due parole, we love, we love, noi lamiamo. Questo è il modello della regina, la donna che si fa amare, perché? Perché rappresenta un popolo, lo rappresenta bene, porta dietro di sé secoli di tradizioni, di vicende, di vittorie, ma anche di sconfitte, eccetera, eccetera, we love, questo è la chiave, noi lamiamo. E allora, partendo da questo aspetto positivo, come mai mi sono messo a studiare queste sciagurate? Allora, leggendo questo libro, spero che vorrete leggerlo, si ha l'impressione che è un libro di gossip, qualcuno l'ha decimato e ha scritto un libro di gossip, tutte le malefatte facevano queste, diamanti, diamo razzi, ma non vi dico. No, sembra un libro di gossip. Questo è un libro di politica, perché io ho cercato di andare alle radici dei difetti dei meridionali, prima dei napoletani, poi dei meridionali in genere. Quei difetti universalmente riconosciuti. Vogliamo riconosciare da quello della terra, la sporcizia. Le città del sud sono certamente più sporche di quelle del nord. Dobbiamo vedere i giornali, le televisioni, tutti i giorni si trovano mucchi di mondiste da tutte le parti. Cioè noi siamo quelli, dico noi per dire in generale, non voi o io personalmente, quelli che fumano e buttano il pacchetto di sigarette per terra, che mangiano la cosa, ma i bambini, quelli mi spaventano, i bambini che vengono educati ancora così. Allora se mangiano la ciugombo, la merendina, la carta che poi è plastica e quindi è inquinantissima, buttata per terra. E io mi chiedo, ma da dove viene questo abitus maledetto di sporcare? Ma non una casa. Se vuoi andare nelle case dei pugliesi sono l'independe. Cosa sporchiamo? Ciò che è pubblico. Perché non lo sentiamo nostro. Questo si chiama mancanza di senso civico. Allora uno dei primi difetti dei noi meridionali è questa mancanza di senso civico, che sta non solo nel buttare i montizi per terra, ma anche solo nel passare col rosso, o nel, quando vedo quei ragazzini che prendono gli alberi giovani, appena piantati, gom gom gom, e giocano ad estirparli. L'avete mai visti? Ci sono. Ci sono. O quelli che vandalizzano i giardini, o le insegne. Sono fenomeni endemici. Ecco la ricerca, ma perché si chiede lo storico? Siamo così. Non parliamo della cortela, che è diffusa non solo al sud ovviamente, però pensate al napoletano imbroglione, che raggira, furbo, intelligente, furbissimo, questo modo di vivere ingannando gli altri. Ma da dove nasce? Allora, siccome sono anche un po', non un po', totalmente femminista, sono andata a cercare queste donne. Cercare, conoscevo le grandi linee, sono andata ad approfondire. E sono venute fuori queste quattro donne. E mi è apparso interessante scriverle queste storie. Però prima per il gusto del macabro, del cattivo, del crudele, dell'erotico, dell'ussurioso, eccetera, eccetera, ma soprattutto per andare alle radici dei difetti del sud. Che quando voi andate al nord, la prima cosa che vi dico, ah voi siete terroni. Ieri circolavo su Facebook una dichiarazione di quell'illustrissimo giornalista che, aiutatemi, come si chiama? Quello di destra. Feltri. 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 Vittorio Feltri. Sì, mi pare Feltri. Feltri. Che dice, i meridionali sono inferiori. Questa è una cosa che sanno tutti. È una cosa ovvia. Anche gli scemi capiscono che i meridionali sono inferiori. Allora l'intervista dice, ma come un'intervista? No, in senso antropologico, in senso economico, igienico, è fatto totalista, sanitario. Noi siamo tutti inferiori. E lo dice Feltri, non lo dice l'uomo della strada. C'è un intellettuale, un direttore di giornale, un opinionista. Mi spiego. Se un meridionale va a studiare, a lavorare, la prima cosa va a Terroni, tu sei Terroni. Lo dicono con disprezzo. Mentre io dicevo sempre ai miei alunni e ai miei amici, dovete rivoltare la frittata. Cioè di dire che il termine Terroni è un orgoglio per noi, essere figli della terra. Sapete chi fece questo rovesciamento di significati? Il dottor mi consente, faccio un parentesi federiciano, perché il mio amore per la storia parte da Federico II di Sveglia. Quando lui partì dalla Sicilia, aveva appena 18 anni, per andarsi a riconquistare le terre dei suoi avi, cioè la Svevia, l'Alsazia, tutte le terre della Germania, i nobili principi tedeschi, forti, forzuti, pieni di armi, di barbacce, così, eccetera, eccetera, disse ma chi è questo puer Apulie? Che tradotto vuol dire un ragazzino, un puer, della Apulie, dove l'Apulie era tutto il sud. Quindi è come dire, aveva avuto il rungiello. Che ce ne facciamo di questo rungiello? Come era? Lì ce lo mangiavano in un bocone. Infatti lui arrivò nudo e crudo, senza armi, senza cavalieri, niente, non vi racconto tutte le popere del suo viaggio. Pensavano di mangiarsene in un bocone. Con la sua intelligenza e con la sua abilità li mise tutti nel sacco. Vinse, diventò l'imperatore, eccetera, eccetera, eccetera. Quando tornò e finalmente arrivò in Puglia, perché in Puglia è arrivato tardi lui, aveva già 26 anni, diventarei a 4 anni, figurati, era già. Tanto gli piacque la nostra terra, questo per dire a quelli del nord, altri che terroni, che se ne innamorò e stabilì la sua vera capitale, a Foggia, un po' per ragioni logistiche, perché era, non dica metà strada, ma più vicina, sia la Sicilia sia la Germania, ma si innamorò proprio della terra. Lui a Foggia aveva il mare, i laghi, i monti e la pianura. Sui monti andava a cacciare con il falco, ma anche sui laghi, perché tutti gli uccelli di passo, lui con i falchi, i ghermiva, in uno dei miei ultimi lavori, è stata proprio la vulgata del Dearte Venante Cumavibus, ma non vi parlo di quello se noi andiamo troppo fuori del seminario. Qual è il rovesciamento di significato? Che quando lui arrivò in Puglia, scrisse, ordino che fece scrivere, noi che siamo, non pullorare mai a status, no, che siamo chiamati Puerapulie, in senso dispregiativo, ci definiamo Puerapulie, cioè figlio di Puglia, una cosa bellissima. Cioè tu vi dici che io sono utterrongeno, io ti dico che sono il figlio di questa terra meravigliosa. Allora questo è il rovesciamento che dobbiamo fare anche noi quando andiamo al nord e ci sentiamo chiamare Terroni. Noi siamo i figli di questa terra bellissima e nobile, venitela a vedere. Vengono qua e poi rimangono incantati. Abbiamo visto il successo del turismo, non solo quello normale, ma adesso anche quello dei grandi, del G7, no? Sono rimasti tutti incantati dalla bellezza e dalla nostra terra. Quindi capite che significa rovesciare il significato? Torniamo alle cattive regine, io dico sciagurate, perché a me non mi interessa il giudizio morale su di te, regina. Puoi essere una puttana quanto vuoi, non mi riguarda. A me interessa il giudizio di te come regina, cioè come responsabile di un popolo, di un potere, che era il potere assoluto, potevano fare tutti, che cosa facevano? facevano mangiare gli amanti dei coccodrilli. Questo era il massimo del potere. Una cosa vergognosa, una cosa terribile. Allora, adesso citiamolo un pochino, va? Chi sono? Giovanna I d'Angio, vissuta a fine del Trecento. Giovanna II d'Angio, sua nipote, stessa famiglia, insomma, vissuta nel Quattrocento. Poi c'è Carolina d'Asburgo, austriaca, provene da Vienna, nel fine del Settecento-Ottocento. E poi c'è Sofia di Baviera, l'ultima, che non la conosce nessuno perché è stata regnata appena un anno. È stata l'ultima regina di Napoli, la moglie di Franceschiello, l'ultimo re di Napoli. Perché le ho accomunate? Perché tutte e tre sono sciagurate, cioè hanno fatto grandi danni alla mia terra. Cioè io queste persone, le studio, le leggo, le approfondite, dal mio punto di vista. Perché io sono, come ha detto lui, come ha detto il domino, no? Io sono l'ultima pedina di quel domino che loro hanno messo in movimento. Cioè noi tutti siamo gli eredi di quelli che ci hanno preceduti. E con questi antenati non c'è certo da stare allegri. Allora, intanto osserviamo una cosa. Sono tutte e quattro non italiane, non napoletane, non pugliesi. Due sono francesi, i angioli. La Carolina è austriaca, la Sofia è tedesca. Dunque, almeno possiamo esentare le donne italiane da queste colpacce, da queste colpe. Ci sarà stata pure la nobile donna, come si chiamava? Erzabel Bathory. No, Isabella Filomarin. Isabella Filomarin. Ma era una contessa, cosa erano? I principi erano quelli. Lei era la principe di Roccadaspide, sì. Era la principessa, voglio dire, non era la regina. Mi spiego? Cioè la regina ha altre responsabilità. La responsabilità pubblica, politica, perché è un po' lei il capo di Stato, insomma. Mi spiego? Queste due sono francesi. Come si trovano sul trono? Sul trono di Napoli, a seco della terribile sconfitta di Benevento, finisce la dinastia degli Svevi. Svevi che Benevento fu ucciso in battaglia, Manfredi, il figlio di Federico II. Quello che Dante definisce come un verso meraviglioso, biondo e rebello e di gentile aspetto, ma l'undecigli un colpo aveva diviso. Si fa uccidere in battaglia, quando la Reschia ha perso la battaglia decide di morire da eroe in mezzo ai suoi soldati. Poi succede quello che succede e quindi arrivano questi benedetti Angiogli, chi era questo Carlo d'Angiogli? Era il fratello minore del re di Francia. Era successo che il signor Papa, io sono profondamente cattolica, apostolica, romana, ma devo dire che il più grande colpevole della mancata unità d'Italia è il Vaticano. È il Vaticano, che ha sempre fatto una politica per sé e non per il popolo o per l'Italia, anche mai. E allora siccome Federico II è stato il primo sovrano a voler rivendicare l'indipendenza del re, del potere civile, del potere laico rispetto al potere religioso. Invece i papi volevano comandare tutto loro, quel mondo e questo mondo. E quindi il conflitto con Federico II è stato grande, figurate che l'ha scomunicato tre volte. Fino a quando morto Federico II, c'era il figlio Manfredi, lui comincia ad andare in giro per l'Europa a mandare i suoi cardinali, le sue ambasciature, a chiedere chi vuole venire a prendere il regno di Napoli. Vi regalo il regno di Napoli, cioè lui si segna il padrone del regno di Napoli, che allora era il regno di Sicilia. Pensate che lui di Cornovaglia, cioè il fratello del re d'Inghilterra, gli rispose, ma cosa mi regali la luna? Per dire che era una cosa impossibile andasse a prendere un regno così grande, così forte, eccetera, eccetera. Fino a quando questo Carlo d'Angiot, il fratello minore, come si chiama, cadetto, del re di Francia, accetta, arma un esercito, scende in Italia, con le armi pure del papa che aveva pure il suo esercito, eccetera, e c'è lo scontro definitivo a Benevento. Ai noi perde Manfredi, finiscono gli svivi. Gli agioini si algolano sul trono di Napoli, che fanno primo la damnazio memorie, cancellare tutto ciò che ricorda questi svivi. Vedete che noi non abbiamo una statua di Federico II, non abbiamo una statua, quando quelle facevano centinaia certamente. Vediamo solo una copia di quella che stava sulla porta di Capua, e sapete dove l'ho vista questa copia? In Germania, perché lì ricostruiscono le cose. Noi siamo mercolili, siamo molto più puristi, e non facciamo i falsi, diciamo. Invece fanno i falsi e ti fanno vedere le cose, perché di questa porta c'è un disegno del Cinquecento che fece, non so se Michelangelo, un grande architetto. Da questo disegno i tedeschi hanno ricostruito, e io questo busto di Federico II, giovane, proprio ragazzo, a quattro anni è diventato rei, l'ho visto in Germania. Comunque adesso è riprodotto sui libri eccetera. E perché non ci sono estati? Perché le hanno distrutte tutto, pensate a Cazzetta del Monte. Quanta arte c'era, amante come era Federico Dell'Arto, non so, ma lui in pieno medioevo ha impiantato la scuola dei lapicidi, a Capua proprio, che era la porta del regno. Cosa sono i lapicidi? Gli scultori, quelli che lavorano la pietra, l'apides, mi spiego? E una scuola da cui puoi essere grandi artisti come Nicolau De Baro, o Nicola Pisano, che ha fatto il duomo, come si chiama, il pulpito a Pisa, erano tutti dalla scuola di Federico II. Finito Federico II, finito tutto. Le scuole, i castelli se ne impossessarono, distrusero tutto quello che potevano distruggere. Quindi il primo è Carlo D'Angio, Carlo I D'Angio, crudelissimo, non le donne crudelle, da vedere gli uomini crudeli. Voi pensate come distrusse la dinastia di Federico II. La moglie di Manfredi, Elena De Piro, donna bellissima, dicono i cronici che è la donna più bella del tempo, hanno fatto un matrimonio meraviglioso a Trani, era venuta da De Piro, De Piro dell'Albania di oggi, preda di Marbania del Sud, era un regno allora dell'impero d'Oriente, si incontrarono su una nave, Manfredi li andò incontro e raccontano i cronisti che le ha detto un bacio così lungo che noi oggi definiremmo hollywoodiano. Tanto questi due giovani e belli si amavano, festa eccetera, diventò regini e fece tre o quattro figli. La grande una donna e altre tre o quattro figli. Quando Carlo D'Angio ha vinto a Benevento, ha mandato i suoi schierane ad arrestare la moglie di Manfredi che cercò di salvarsi, il castello di Trani lo sapete sul mare, cercò di prendere il mane per tornare in Albania dai suoi parenti, purtroppo quelle notti il mare era in furiosa tempesta, non riuscì a attraversare e chi l'aiutava non fu il manescalco, il sindaco, l'autorità, ma fu un modesto pescatore di Trani di cui c'è anche il nome. Questo vi dice come la dinastia aveva, era amata, l'incardinata nel popolo pugliese. Ecco chi è il re e la regina, lui l'avva, quella che noi amiamo. La legittimazione di un capo è di essere amato dai suoi sudditi, se non è amato non è un capo, poi c'è qualunque cosa, poi c'è un delinquente, poi c'è una rivista, poi c'è un genio, ma non è un capo, il vero capo è, pensate a Napoleone, che si faceva amare alla follia da questi milioni di soldati che andavano a morire per lui. Questa è la grandezza, il genio di un capo, di essere amato. Ecco perché vi ho citato quella frase banale di una funzionaria europea di oggi, lui l'ave Elisabetta, noi amiamo Elisabetta. E così il popolo pugliese amava gli svegli, Federico, Manfredi, eccetera, eccetera. Insomma sta poverina non si salva, il sindaco di Trani la tradisce, fa arrivare i soldati e la prendono in prigione. Viene arrestata, portata nelle carceri, cerca di vendere il matrimonio, lei si rifiuta, ma la cosa peggiora sono i bambini, uno di tre anni, uno di sette, l'altro di otti, i figli piccoli. Che fa questo delinquente di Carlo? L'imprigiona dove? A Castel del Monte, che era il gioiello di Federico, lo trasforma in una prigione tetra, li chiude là, li evira. Perché si evirava i bambini? Per assicurarsi che non ci fosse la discendenza. Li acceca, il dottore da buon oculista sa la storia dell'accecamento dei bambini, li fa morire di inedia, non so. Basta, non diciamo altro. Ne fa tante di malefatti. Dopo di lui viene il figlio Carlo II, il Zoppo. Dopo di lui viene l'altro figlio, Roberto d'Angio. Quello che Dante, siamo già all'epoca di Dante, definisce un re di sermoni, cioè un re bigotto. Ma il bigottismo, cioè l'attaccamento morboso alla religione, tipico degli angioi, non per niente, sono stati chiamati dal Papa. Si chiamano fedelissimi al Papa, quindi rosari, preghiere, reliquie, stato, chiesa, monumento, tutto. Perché la religione veramente allora era l'occhio dei popoli. E quindi Roberto d'Angio, sposa Sancio di Spagna, un'altra bizzocca, però una bizzocca che ci ha lasciato una grande opera d'arte, Santa Chiara, Santa Chiara di Napoli. Avete visto Santa Chiara? Una serie Santa Chiara, tengo cuore, scura, scura. Io l'ho rivisto l'ennesima volta qualche tempo fa e mi sono emozionato di nuovo perché è un monumento favoloso. C'è quel chiostro che è bellissimo. Va bene, lasciamo stare. Lui ha un figlio che deve essere Carlo III, IV, l'erede altro. Invece questo muore, pre-muore e lascia due figlie femmine. E qui viene fuori la prima regina, Giovanna. Lui lascia in testamento che regina, re di Napoli, deve diventare la nipote Giovanna. E se lei muore la sorella Maria. Apri ti cielo. Chi? I cugini. Perché gli angioi i cugini sono stati sempre molto prolifichi. Facciamo un sacco di figli. E quindi Roberto aveva diversi fratelli. Io poi ho fatto tutta la genealogia. Quando vi sfizierete di legge troverete tutti. Soprattutto i due più grandi. Uno era Filippo d'Angio, principe di Taranto. Lui con la moglie fece una bellissima... Che le cose migliori che hanno fatto gli angioini? Qualche monumento che ci hanno lasciato. A Brindisi abbiamo la chiesa del Casale. L'avete mai vista? Se non l'avete vista andatela a vedere perché lo merita. Una chiesa non grandissima, ma nemmeno piccolissima, che loro fanno come ex voto per avere... per inventare il dono di un figlio, di avere l'erede altro uno. È una chiesa bellissima. Non vi dico niente. Ho scritto un libro intero per questo. E sapetevelo scritto? Mi piace dirvelo. Per tornare ai difetti del sud. Io vado all'aeroporto di Brindisi a prendermi la figlia in attesa. Parcheggio la macchina. Parcheggio immenso. Migliaia di macchine. E dove sta sto parcheggio? Tutti andranno alla chiesa. a Santa Maria del Casale, che è proprio vicino all'aeroporto. Oddio, dico, chissà se tutte queste migliaia di persone hanno mai alzato uno sguardo ad ammirare questo monumento. Vado nell'aeroporto e chiedo al bookshop, mi dà un libro su Santa Maria del Casale? Questa mi fa, e che cos'è? Come che cos'è? Ce l'hai davanti, ci vuole la metri lì, non sai che cos'è? È una chiesa che sta lì, signorino. Ah sì. Questo cosa vi dice? L'ignoranza. Cioè tu vieni messo a un bookshop, c'è un negozio che vende libri, cioè vende cultura, tutto sommato, e non sai nemmeno che davanti a te c'è stata una chiesa del 300. Allora mi dia un libro su Brindisi, su Brindisi troverò qualche cosa sulla chiesa del Casale, ma non ce ne abbiamo. Ma come all'aeroporto in Brindisi, dove passano migliaia e migliaia di turisti, poi si lamentano che queste ne vanno in Grecia. È logico, se tu non li fai trovare nemmeno, nemmeno gli dici che cosa può vedere in questa città che è stata la città dove è morta Virgile, tante cose, la città di Cesare, di Pompe, tante cose nella storia di Brindisi. Tu non gli dici niente. Perché si deve fermare il turista? Prende la nave e se ne va in Grecia. Mi spiego? Allora tanto mi irritò questa cosa, ecco, la mia coscienza meridionalista si ribellò. Ma come è possibile? Non c'è un libro? Allora lo scrivo io. Mi vissi a studiare e venne fuori quel libro che se vorrete potrete trovare sia su internet, solo la casa editrice Abda, eccetera. E quindi Filippo D'Angio con la moglie, principi di Taroto, fecero questa chiesa. L'altro fratello, Ramo Durazzo, aspirava, i figli dei figli, cioè i coetani, a sposare Giovanna per diventare re di Napoli. Ma Giovanna era già stata promessa di sposa a sette anni a un principe ungherese. C'era una questione che adesso non vi dico troppo lunga con il re d'Ungheria, perché fanno pace e dicono, beh, sposiamo i nostri figli. Io mia figlia e tu tuo figlio Luigi d'Ungheria. Questo principino d'Ungheria lo mandano a Napoli per crescere insieme alla futura moglie. Sette anni, uno, otto anni, uno, otto anno l'altro. Vivono insieme, diversi anni, da bambini, ma non negano. Sono completamente diversi. Lui è trucido, chiuso, misantropo, mezzo cecato, mezzo zoppo, brutto. Lei invece è un fior di bellezza. Le scrive boccaccio, pensate, la penna, anche Petrarca, la penna di questi nostri grandi scrittori. La quella chiamava Giovannetta. No, Giovannetta la sovra a cucina. No, era una bella donna, c'è poco da fare. Che giovanissima cominciò a esercitare la sua emminilità in senso sessuale. Mi spiego. Si trovava con sto marito Totaro. Allora, quando re Roberto si rende conto che questo promesso sposo non è all'altezza di fare il re di Napoli, cambia il testamento. Dice, regina sarà solo Giovanna. Luigi sarà principe consorte. Apriti cielo gli ungheresi. Oh, ma mio figlio non deve andare di Napoli. Allora ricorrono al Papa. Il Papa era sempre quello che teneva le fila del gioco. E il Papa dice, no, ti faccio io, ti faccio lì di Napoli. Faccio la bolla, te la mando. In attesa che arrivasse sta bolla, a Napoli c'era anche il partito di Giovanna, cioè i napoletani, i nobili, i principi, eccetera. Che non vediamo di buon occhio questo ungheresi. Non è mai legato ai napoletani. È rimasto sempre nella cerchia dei suoi ungheresi. Insomma, per farla breve, ordiscono una congiura e lo ammazzano. E lo ammazzano malamente. Non vi descrivo come, perché voglio che lo leggiate. È una cosa terribile. Mentre lei dorme tranquillamente nel suo letto. E quando la nutrice la va a svegliare per dire, vedi che hanno ucciso il marito. Ma io sono al sesto mese, ero incinto. Non posso annunciarmi dal letto, cioè me ne frega niente. E infatti sto povero morto, rimasto nella cappella del castello lì, nessuno gli faceva le secque. Fino a quando non venne uno zio da Napoli, fece le secque solo. Il popolo, ecco, il popolo, immediatamente disse, l'hai ucciso tu. È la moglie che l'ha ammazzato. C'era stata una congiura, ma è chiaro che lei sapeva tutto e aveva nicchiato. Quindi primo marito steso. Andiamo velocemente. Ne sposa altri tre. Quattro matrimoni. Il secondo lo fa morire, dicono le cronaca, di malvenereo. Per aver troppo sesso, aver fatto troppo sesso con la moglie, non ce la fece più, insomma, crepo questo poveretto. Che era l'altro cugino. Perché morto l'inglese, l'ungherese, lei si è messa a pomiciare, a fornicare con il cugino, che si chiamava, non mi ricordo altro nome. A un certo punto si stanca di quello, lo lascia, acchiappa per un braccio, proprio descritto fisicamente, l'altro cugino, lo butta sul letto e lo concupisce. Dovrì che dice, questo era mio marito. Nel frattempo arriva il re d'Ungheria per vendicare il morto, naturalmente. Occupa il regno, lei se ne scappa. Dove scappa? Dal papa. Dove stava il papa? Ad Avignone. Perché siamo nel periodo della cattività avignonese, che è uno dei peggiori della storia della chiesa. Scappa lì, il marito le va appresso. Lì il papa le fa il processo, quello che chiedeva il popolo di Napoli. Voleva il processo agli assassini. Lei fa un finto processo e fa condannare tutti i vari congiurati. Naturalmente lei ne esce fuori, pulita. E quando va ad Avignone, fa la sua autodifesa, come era una donna intelligente, capace, colte, eccetera. Fa una tale difesa che i vesi cardinali si commuovono. E la definiscono una santa donna. La elogiano, eccetera. E quindi il papa c'è il matrimonio formale con Luigi, il cugino. E quindi lei si sposa col secondo marito. Poi ci sarà un terzo e un quarto, ma lasciamo perdere. Come finisce sta vicenda? Finisce male. Perché intanto c'è quello che viene chiamato lo scisma d'Occidente. Si crea un antipapa, il papa di Roma e il papa di Avignone. Tutta l'Europa si spacca in due. Fu come una guerra mondiale di oggi. Ci sono nazioni che si schienano col papa di Roma, e nazioni che si schierano col papa di Francia, ovviamente la Francia. Lei in questo gioco decide di schierarsi con la Francia e col papa di Avignone. E questa fu la sua condanna. Perché il papa immediatamente la dichiara eretica e scismatica. Mi spiego? Poi gli manda la decaduta al trono e lascia il titolo all'erede francese. Quello scende con l'esercito, la sedia in Castelnuovo. Lei resiste, resiste. Pensate che la guerra la facevano soltanto con i proiettili di Pietro, perché allora non c'era ancora la porta della Sparta, ma addirittura con gli escrementi. Si racconta che gli buttano dentro al castello botti intere di escrementi umani, animali, una cosa terribile per farla, per snidarla. Fino a quando lei si accorge che sono finite tutte le provviste e i suoi stessi valletti, i suoi stessi cortigiani non hanno di che mangiare. Allora è costretta a chiedere una tregua, ma lei aspettava che arrivasse l'esercito francese a liberarla e a rimetterla sul trono. Non fa in tempo. Il nemico dice sì, accetto la tregua. Quindi si apre il castello, la arrestano ovviamente, non mantengono la parola. La arrestano e la mandano in prigione in un paesino sperduto della Basilicata, che si chiama Vallo di Lucano. No, non è, mi sbaglio sempre, muro Lucano. Muro Lucano. Mi sbaglio sempre, vallo e muro Lucano, dove c'è un castellaccio di questi angioine durazzessi, che viene messa in prigione lì e lì muore. Come? Non si sa. Può essere morta strangolata, può essere morta avvelenata, può essere morta pugnalata, comunque dagli schierani del re di Napoli, che ormai era re di Napoli, perché è nominato dal papa. Papa muore. Quando si muore, che si fa? Le sequie. Questa poverina non ebbe manco le sequie, perché era scismatica, quindi il Vaticano, la chiesa, non poteva celebrare funzioni religiose. E allora si racconta che la caricano su un mulo o su un asio, un animale vile, insomma, anche su un cavallo, avvolti in una pelle di bue, mancano una tele, una coperta, niente, così, e la portano a Napoli. Lì la fa esporre il re, non so per quanti giorni, perché tutti si rendessero conto che Giovanna era finita, non c'era più. Dopodiché viene sepolta. Dove? Non si sa. Non esiste la tomba di Giovanna. Probabilmente i frati la buttarono in una, come si dice, le fosse comuni, perché era scismatica, quindi non aveva diritto alle preghiere, alle rite, alle funzioni e nemmeno alla sepoltura. Questa è la triste storia di questa donnaccia. Siccome la parola donnaccia è sempre un po' legata al sesso, diciamo qualche cosa sulla sua vita sessuale. Questa divorava gli uomini, mandava in giro per Napoli i suoi valletti, i suoi soldati, a cercarli i più bei giovani di Napoli. Gli riportavano, lei se li godeva in tutti i mondi, dopodiché li faceva buttare nei trabocchetti. Questi trabocchetti erano dei pozzi, che non si sapeva dove finivano. E finivano così. A questo, al Castello Grande, come si chiama? Castello Nuovo. Mentre a Castello dell'Ovo, che era un altro dei castelli, il loro reggio, eccetera, questi pozzi erano, come dire, erano pieni di lame, spade, coltelli, così, in maniera che quando questi poveretti venivano buttati, venivano affettati. Capite la genialità crudele di quest'anno? Nel bastava usarli sessualmente, goderne, perché ne godeva pazzamente, era una linfoma, oggi si direbbe così, qualche medico dice che è linfomania, però gli piaceva ucciderli, eccetera, eccetera. E questo è Giovanna I. mamma, gli basta? Allora, la mia domanda, perché poi dopo il capitolo c'è la riflessione, ma per la nostra terra, per il suo regno, per il sud, cosa fa? Ha dato un esempio. E che esempio era questo? Come poteva la gente rispettare la cosa pubblica se la cosa pubblica era così rappresentata, così gestita da queste donne? E poi arriva Giovanna II, che è una nipote, come lei, peggio di lei, infatti la chiamano la dissoluta. Vedete che fra gli aggettivi che le hanno dati gli storici, nei secoli, non io solo, nei secoli, potevi scegliere. Io ho scelto la dissoluta, ma c'erano anche tanti altri. Come la zia, amante a tutto spiano, e poi quando li buttava giù, una leggenda metropolitana diceva che lei si era fatta venire dall'Egitto un coccodrillo. Questi poveracci, quando finivano nel pozzo, finivano in bocca al coccodrillo, che se li mangiava e tornava in mare. Quando sentiva l'odore della carne, tornare a venire se ne mangiava. Leggenda metropolitana. Pensate che questa leggenda, perfino Benedetto Croce si occupa, nel suo libro sulle storie di Napoli, eccetera, e fa fare un'indagine sua personale. Va a Riviera di Chiaia, va nei quartieri popolari e comincia a interpellare. Che ne sapete? Eh, regina Giovanna. Quando vogliamo dire una donna che è una donna di poco, diciamo, siccome la regina Giovanna. E questa si fa mangiare gli amanti dal coccodrillo. Beh, recentemente, proprio su Facebook, è arrivata gli ultimi studi. Ma inutile lo leggo, lo dico rapidamente, poi in sintesi. C'è una fotografia di fino a 800, le prime fotografie al MES, eccetera, dove si vede sull'arco di Castelnuovo, dove sta il famoso, la famosa scultura di, come si chiamava quello? Vabbè, non è pieno, ma si vede una sagoma di un certolone, di un animale. Che cosa è successo? È successo che dopo le sciagurate regine, arrivano gli aragonesi sul trono di Napoli. Ferrante d'Aragona usava questi trabocchetti per punire i suoi nemici, per condannarle. In condannarle non li faceva buttare laggiù. Però poi non trovava mai nello scheletro, nei resti. Ma che fine hanno fatto questi? Si sono volatilizzati. Allora manda a esplorare con i dovuti mezzi e trovano finalmente i famosi, che erano due, pare che fossero i famosi coccodrilli. Per un po' li tiene, come boia, diciamo, di spare che anche alcuni dei congiurati, della famosa congiura dei baroni che fu fatta in Puglia e Basilicata, tutti i baroni cercarono di ribellarsi al re di Napoli, furono scoperti, furono sconfitti, e molti di questi, pare che li ha fatti uccidere dal coccodrillo. Poi non se ne ha più notizia, sì, nell'Ottocento, non ricorda, no, fai sempre gli Aragonici, fanno tirare fuori lo scheletro di questo, e lo inchiodano sul portone del castello. Solo fine Ottocento il comandante, ormai siamo nel Regno d'Italia, il comandante della piazza militare diceva che sta a costo, lo toglie, e lo manda a San Martino, cioè al museo, dove pare che ci sono ancora i resti dello scheletro del coccodrillo, nei sotterranei di San Martino. E recentemente, questa è la notizia nuova, i tafonomici, i medici, l'hanno studiata e sono effettivamente lo scheletro di un coccodrillo di egiziano, di grande tipo, eccetera, eccetera. Quindi non era una leggenda, era vero che queste sciagurate regine davano in pasto ai coccodrilli gli uomini che avevano usato. In più, o in peggio, per Giovanna II, c'è che era una stupida, mentre Giovanna è intelligente, colta e acuta, riesce a mantenere il trono nonostante tutte le lotte, i nemici, gli ingheresi, i francesi, tutti, lei riesce a mantenere lo scettro, quindi sul piano politico, e un personaggio politico, anche se non ha fatto niente di bene, e qualche cosa, anche io se mi parlo delle strade, poi troverete citato anche. Invece Giovanna II, per di tutto, diventò regina senza saperlo, era la sorella del re, di re Ladislao, faceva la bella vita a corte, gli amanti, il lusso, le cacce, i divertimenti, eccetera. A un certo punto Ladislao, che era forte, aveva messo sull'esercito, si stava imponendo nella politica italiana del 400, una malattia, non si sa quale, cade in deliquio, non fa in tempo arrivare da Perugia a Napoli, e la Napoli muore, bestemmiando, urlando, perché nella sua giovinezza aveva tante cose in programma ancora di fare, muore. E anche lì, alcuni cronisti dicono che muore di malvenereo, perché anche lui era un altro puttaniere di quelli unici. Questa ragazzina si trova alla regina di Napoli, senza capire niente, né di politica, né di cultura, niente. Allora, chi prende il potere a Napoli? I suoi amanti, che sono, nemmeno li sposa, che sono, come si dice, i ministri, insomma, l'acciaiole, si chiama acciaiole, diventò il padrone di Napoli, quello che decideva, e per fortuna non fu nemmeno un cattivo amministratore. Però la regina, che siamo là, la regina, l'icona, era un disastro. Un esempio terribile per il popolo. Cito solo un piccolo episodio. A un certo punto, lei ha scelto una sua, come sua damigella, una bella ragazza di Terrizzi, mi pare, si, della Puglia. Allora, per andare a prenderla, si incontra a metà strada, sull'Abruzzo, dove c'è un piccolo castello, c'è un piccolo baronetto lì, e nel castello di quelli si danno appuntamento. Adesso non mi ricordo, ma trovate tutto sul libro, non vi fidate della mia memoria, perché sui nomi la mia memoria si è indebolita. Però sui nomi, ma sul resto no. Si incontra in questo castello, il baronetto si innamora della bella ragazza. E la bella ragazza si innamora del baronetto. Apri di cielo la regina, come? Io sono la regina e tu mi devi togliere il divertimento mio. Non fa nulla. Si porta la ragazza a Napoli, dopodiché manda i suoi soldati. Non solo fa uccidere il baronetto, ma distrugge il suo castello e rade al suolo il paese. Queste sono le vendette di queste regine, perché aveva usato, questa ragazza innocente, diciamo, con la sua bellezza, aveva usato sottrarle il principotto, il baronetto, quello che era. È uno degli esempi. Anche lei muore mare, ma lasciamo la pelle. Basta con gli angioini. Io sono una federiciana, l'ho dichiarato, lo dico pubblicamente. Tanto sono ammiratrice di Federico II, tanto sono dispregiatrice degli angio. Una volta mi trovai a fare un dibattito, come la grande Pina Belli di Lìa, no? Che è stata una studiosa grande di arte pugliese. Quando lei cercava di difendere gli angioini e io rintuzzavo e così e così. Beh, vabbè, ma almeno ci hanno lasciato dei bellissimi monumenti funubri. Alla faccia, tutto qua, tre secoli di dominazione per andare a ammirare i monumenti funubri che stanno a Santa Chiara, in altre chiese napoletane, che erano i loro monumenti funubri. Noi si facevano seppellire con queste guglie gotiche, perché loro portarono il gotico nel sud Italia, il gotico è francese, viene dalla Francia, e loro portarono i loro architetti, i loro artisti. Per cui i lapicidi di Federico II, se ne dovessero andare, fecero la diaspora, se ne dovessero andare in Toscana, dove invece poi fu coltivata l'arte di tutti, scultori, pittori, ingegneri e compagnia bella, grazie ai medici e quelli che, tutta la dinastia dei medici, diciamo così. Quindi, di positivo, io negli angioini non ci trovo nulla. La mia più grande contradditrice, come vi ho detto la professoressa De Lìa, la diceva, beh, vabbè, almeno ci hanno lasciato le grandi tom. Eh, vabbè, questo te lo riconosco, che sono i monumenti bellissimi. Facciamo un salto di tre secoli. Se vi siete stancati, ditelo. Io mi posso anche fermare. Devo bere un po' d'acqua, però. Arriviamo alla fine del Settecento. Sul trono di Napoli adesso ci sono i Borbone, che, come sapete, conquistarono questo trono nella battaglia di Pitonto. Come vedete, la Puglia c'entra sempre, eh? Non era marginale, era importante come regione il regno di Napoli. la battaglia di Benevento, sono le famose guardie di successione in tutta l'Europa, e la guardia di successione tra austriaci e spagnoli. Guida l'esercito spagnolo il figlio del re, che si chiamava Carlo. Ed era figlio del re di Spagna, ma la madre era Margherita di Farnese di Parma. Con chi abbiamo parlato di Parma prima? Non mi ricordo. Con te, a che proposito? No, Federico II della sconfitta. Ah, 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 ah. Sì, la sconfitta di Parma, no? Adesso a Parma regniamo nei Farnese, la famosa dinastia, messa su anche quel nipote del Papa, c'è una grande dinastia, però, eh. Quindi lui è un Borbone Farnese, diciamo così, la madre è Farnese e il padre è Borbone. Vince la battaglia, allora il padre dalla Spagna fa il gesto sovrano, gli regala il trono di Napoli e quindi diventa re di Napoli, con il nome di Carlo III di Borbone. Diciamo subito che questo è stato il migliore e il più grande re borbonico. Ha fatto grandi cose, molte ne avrebbe fatte ancora se fosse rimasto. Non ve le sto elencate per non andare troppo per il lungo. Gli è che dopo di lui ebbe diversi figli, il primo figlio nacque proprio deficiente, proprio... L'altro giorno in Sant'Ai Chiaro ho visto la tomba, è scritto in latino, non ricordo l'espressione per dire proprio che è nato demente questo povero ragazzo. Quindi il titolo di Principe dell'Italia andò al secondo genito. Il secondo genito morì di Chebraiolo, che era un'epidemia disastrosa allora, frequentissima, eccetera. Il titolo va al terzo genito, che si chiama Ferdinando. Intanto, un avvenuto a disgrazio per noi fu che morì il re di Spagna e quindi Carlo III fu chiamato a ricoprire il trono di Spagna. Chi salì al trono? Questo bambino di nove anni, che non ne sapeva niente del governo, della corte, perché era vissuto nemmeno istruito, non aveva precettori, era il terzo cadetto, non lo curavano proprio, non ho mai pensato che doveva arrivare al trono proprio lui. Voi pensate che il suo vero maestro istitutore è stato un menino. Sapete chi era il menino? No. Allora vi ricordo, ecco la nostra pittrice, la nostra critica d'arte, Velázquez, il grande Velázquez, Las Meninas, quel quadro meraviglioso dove si vede il re e la regina che stanno dietro la tenda. Poi c'è la principessa, la figlia, la babbina e Las Menudo, tre, nane. Le meni, infatti al frangis meninos, cioè piccolo, erano i nani che si davano ai figli del re come giocattolo vivente, servivano a far giocare il figlio del re e quando il figlio del re faceva una marachella e meritava una punizione, allora c'erano le punizioni corporali, no? I colpi di frusto. Questi colpi di frusto li prendeva il menino, al nome del principe, il principe era la sacra, non si toccava. Las Meninas, e c'erano in tutte le corti, erano, ripeto, i giocattoli viventi dei principini. Allora questo Ferdinando da bambino, stava sempre con questo menino che si chiamava Riviello, un popolano, come si dice, nano, storpino, e che cosa facevano? Quelli che fanno i ragazzi di strada di Napoli, eccetera, no? La caccia, gli uccelli, cominciano le donne subito, eccetera, questo fu il suo grande maestro. Pensate che questo che era un criminale, ucciso la moglie, eccetera, eccetera, diventa uno dei capi banda del cardinale Ruffo quando ci sarà la marcia di Ruffo alla riconquista del trono ai Borbù. Va bene. A nove anni diventa Ré. Abbiamo i quadri bellissimi, questo bambinotto con la parrucca, con i simboli della regalità. Però le cose vanno ancora bene perché rimane a governare Napoli Bernardo Tanucci, che era un toscano, guarda caso, ed era il primo ministro di Carlo III, quello che aveva gestito tutte le riforme di Carlo III. Quindi finché c'è Bernardo Tanucci che prende ordini dalla Spagna, cioè da reccarlo, le cose vanno abbastanza, perché lui è un bambino, non ti interessa di niente, eccetera. Quando arriva l'età da marito o da moglie, che sono 17, 18 anni, sposavano prestissimo, per ragioni politiche si fa il matrimonio con una principessa tedesca, una delle tante figlie di Maria Teresa d'Austria. Avete presente Maria Teresa d'Austria? L'imperatrice del Sacro Romano Impero, Austria-Ungheria, eccetera, eccetera. È chiamata la matriarca d'Europa, invece 14 figli. Ognuno di questi lo piazzò su un trono, perché attraverso i figli dominava tutta l'Europa, decideva la politica europea. Diciamo solo le ultime due figlie. La penultima si chiama Maria Antonietta e la sposò lei di Francia, ed è Maria Antonietta regina di Francia. L'ultima si chiama Carolina e la sposò a Ferdinando di Borgone e diventa regina di Napoli. Mi spiego? Questa ragazzina non voleva, perché la fama della stupidità di questo, perché era proprio stupido, eh? Ferdinando, se vi dicessero gli scherzi che faceva, non erano da remo, erano neanche da persona normale. Non ve li dico, poi leggeteli. Sono veramente, non si abbondi. Non so, si divertiva per esempio a mettere la marmellata nelle tasche dei preti, dei principi, ma questo è qualcosa più semplice. Si divertiva andare vestito da Lazzarone, infatti viene chiamato tra i suoi tanti appellati anche Re Lazzarone. Si mescolava il popolo e questo poi è il legame perverso che si crea fra degli assi e dei borboni e il popolo, ma non il popolo, il popolaccio, o come dico Francesco, un po' più lass, cioè i Lazzaroni, cioè le fasce più estreme, più povere, più ignoranti, più grozze, più violente della popolazione. E lui si vestiva così a pesci bene, andava a vendere il pesce, andava a vendere le bettole, si divertiva in questa maniera. Quando Carolina, a un torto collo, deve sposarlo, sua madre, la furbacchiona, scrive nei capitoli matrimoniali che la regina, diventata regina o sposata il re, entrerà nel consiglio della corona appena darà l'erede al trono. Questi due che si scoprirono, i due lussuriosi, fecero un sacco di figli, a letto stavano benissimo insieme, al governo dello Stato assolutamente no, che lui non si interessava di nulla, si scocciava, le sedute del consiglio. Come nacque il primo figlio maschio, entrò nel consiglio della corona, faccio tutto io. Stupido di Ferdinando, fu contento. Gli edette perfino il sigillo reale, allora tutti i documenti, oggi è la firma del Presidente del Pugliano, il sigillo del re. Se mancava il sigillo del re, la legge non era legge, glielo dà la moglie, quindi la moglie ha carta bianca, può fare quello che vuole. La prima cosa brutta che fa, licenzia Tanucci, perché Tanucci era l'unico che le teneva a testa sulle cose assurde che voleva fare, lo licenzia. E comincia così il malgoverno di Carolina d'Asburgo, che all'inizio sembra un buon governo, perché lei si pregia di fare la macenate, invita a corte gli intellettuali, appoggia la massoneria, cosa che Tanucci, perché era un uomo intelligente, capiva che la massoneria non era a favore della monarchia, era un pericolo per la monarchia, quindi diceva non dare corte a quello, invito a corte, eccetera, eccetera. Fino a quando in Francia soffia il vento nella rivoluzione. Non stiamo a descrivere il vento nella rivoluzione francese, lo sapete tutti, diciamo solo l'ACME, cioè il ghigliottinamento di Luigi XVI e di Carolina, di Mario Antoniana, scusate. Carolina impazzisce di dolore, era la sorella preferita, erano cresciuti insieme, si scrivevano, si facevano la gara a chi era più elegante, a chi si faceva fare il ritratto più bello della Kaufman, eccetera, eccetera. E allora si racconta che si chiude nelle sue camere, nella sua cappella, tutto di nero e vestito, e non esce per giorni, 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 anche lo stesso marito si preoccupò di sei metri di corso, vedete, ancora impazzisce, questo, eccetera. Quando esce, esce trasfigurata, diventa così una megera, cioè carica di odio, col proposito netto di vendicarsi di tutti quelli che in qualche modo hanno avuto a che fare con la morte della sorella. Quindi di tutti i giacobini, di tutti i liberali, di tutti gli intellettuali, tutti quelli che ormai erano una classe dirigente nuova, che stava rinnovando il paese. Quindi altro che la mecenata, di ricevere accorso, quando si accorge che gli intellettuali erano con la rivoluzione francese e non con la monarchia, fece stragi. Arriviamo al 1799, l'anno cruciale della nostra storia, non solo della nostra storia del sud, ma la storia d'Italia, perché come ben diceva Maria Antonietta, ma ciò che io ne sono convinta, l'Italia non ha mai fatto rivoluzione, l'Italia non è rivoluzionale. L'unica vera rivoluzione è stata quella di Napoli, perché è riuscita la rivoluzione così, da così a così. C'è un rivolgimento totale, tutti i resti sono sommossi, ribellioni, ma la rivoluzione è quella che cambia il sistema. E infatti gli eroi del 99 ebbero il coraggio, loro se ne scapparono, Ferdinando, Carolina, i figli, eccetera, ma gli eroi di Napoli, ecco questi intellettuali, fra cui Ignazio Ciaia, poeta di Fasano, Emanuele Dedeo prima, poi ti racconto la storia che viene prima, Giuseppe Albanese di Noci e tanti altri pugliesi, ma non solo pugliesi, perché come sapete Napoli, chi? Bravo, Dell'Erma di Castellano, ma ci sono tanti, pensate che io ho scritto un libro che si chiama I nostri eroi, dove ho fatto rivivere tutti i pugliesi che si sono battuti per il risorgimento, e sono veramente tanti, noi li abbiamo dimenticati tutti. Quando io ho presieduto il comitato pugliese per i 150 anni dell'Italia, ho cominciato a rileggere, di madonna, e com'è che li abbiamo dimenticati? Questi sono morti per noi, ecco il famoso domino, sono morti per noi, grazie a loro noi abbiamo la libertà, la parola, gli affari, il turismo, tutto quello che è modernità, grazie a questi che si sono sacrificati. E quindi ho deciso di fare un lavoro, raccogliere tutte le immagini, le immagini, non solo un ritratto di ciascuno, e un po' le notizie della vita. E ho fatto questa specie di antologia del risorgimento pugliese, che prima parla delle varie correnti, la carboneria, il murattismo, eccetera, eccetera, e poi c'è questa specie di repertorio di tutti questi eroi nostri pugliesi. Questi dichiarano decaduta la monarchia, questa è la rivoluzione, e proclamano la Repubblica Napolitana. E comincia a fare leggi, la prima e più importante qual è? L'eversione dei feudi, sono aboliti i feudi, e quella è la palla al piede del soldi, il feudalesimo, con tutti i suoi privilegi, con la sua mano morta, mano morta anche ecclesiastica, eccetera. Aboliscono la pena di morte, per esempio, sono leggi veramente innovative, mi spiego? Ma purtroppo questa Repubblica durò da febbraio a giugno. Perché? Perché il famoso cardinale Ruffo andò a Palermo, dove stava la Carolina, con Ferdinando. Ferdinando, come arriva a Palermo, faceva la sua solita vita, si comprò una bella tenuta e andò a caccia. Si fece l'amante e visse con l'amante. La vera politicante era lei, che continuava a tramare con gli inglesi, con i briganti, eccetera, per poter riprendersi il trono. Quando il cardinale Ruffo, che non era un prete, attenzione, era un laico. Perché era cardinale? Perché a quel tempo il titolo di cardinale non era legato al vescovato, come adesso, una legge recente, l'Ottocento l'anno fa. Era un titolo onorifico e anche fruttifero. Lui era un, come si dice, un amministratore, una specie di Marcinkus, un banchiere, insomma. Siccome le casse del Vaticano erano a terra, lo chiamarono per le rimise in sesto. E il Papa, un segno di gratitudine, gli detto non soltanto brebente, ma il titolo di cardinale. Lui con questo titolo va a Palermo e dice al re, io ti metto la mia spada al tuo servizio per riconquistarti il regno. Il re Ferdinando ha quello che dice, ma che devi conquistare tu? Io non ce l'ho più un esercito, perché si era squagliato in fronte alle truppe francesi. Ma a me mi salveranno, ecco, i Lazzari e i miei alleati stranieri, cioè austriaci, turchi, russi e compagnia bella. Non lo ascolta. Invece Carolina Furba lo ascolta e gli dà credito. Però dice, non c'ho niente, non c'ho né soldati, non si preoccupa. Gli dà, cosa gli dà? Il simbolo, l'importanza dei simboli. Gli cuce la bandiera bianca con lo stemma dei borboni e come la chiamiamo questo esercito che non è ancora nato, che deve nascere? La chiamiamo della santa fede, perché dobbiamo puntare sulla religiosità del popolo. E così Carolina Furba sbarca in Calabria e fa un appello, come si chiama? Un decreto, insomma, con cui chiama a raccolta tutti i suoi sudditi, perché lui era barone, no, Ruffo di Calabria, antichissima dinastia, venire ad arruolarsi per salvare il re e la fede. Non si presenta nessuno. Questa è una cosa che io sottolineo sempre. Questa storia che il popolo adorava i borboni non è sempre vera, non è del tutto vera, altrimenti si sarebbe veramente presentati per amore del re, invece non si presentava. Questo si trovo senza un esercito che aveva promesso. Allora che fa? Lo dico con parola napolitana, come dico napolitano? Fece la pensata, la pensata. Quale fu la pensata? Di aprire dei carceri e di arruolare tutti i galeotti, assassini, grassatori, stupratori, ladri, tutti quelli che stavano in carcere. Quindi gli fa uscire, gli commuta la pena, gli abolisce tutta la pena, gli promette, non il soldo perché non c'aveva soldi per pagare l'esercito, cosa gli promette? Una cosa ancora più brutta. Il saccheggio. Cioè noi quando conquisteremo una città giacobina, io vi darò licenza, voi, gli uccidere, gli saccheggiare. Arrivano a frotte, arrivano soltanto quelle con le falci, con le spade, eccetera, eccetera, i residui dell'esercito con qualche fuggiasco che si aggrega, ma arrivano i saccaioli. Chi sono i saccaioli? Nulla tenenti, che si presentano con un sacco. Perché quando voi conquisterete la città noi andremo a saccheggiare e si riempiono il sacco e si portano qualcosa a casa. Questo avviene e man mano che sale dalla Calabria l'esercito si ingrossa di questi personaggi, i fedeli alla monarchice, perché c'erano sempre i nobili borbonici, eccetera, eccetera. La prima città saccheggiata è Crotone, la prima vittima. Chiaramente vengono uccisi i patrioti, stirpato l'albero, la città saccheggiata, eccetera, eccetera. Poi continuano a salire verso la Puglia. Acquaviva cerca di difendersi, ma viene martirizzato il capolo, che era una bella grande figura, ma poi non ne parliamo adesso. Finalmente arrivano ad Altamura. E qui fatemelo dire, perché è la mia città, quindi ci tengo. Altamura Leonessa di Puglia. Perché Leonessa? Perché decide di resistere al Cardinale Ruffo. Ma in tutte le altre città, come sentivano, che arrivavano storta, selvaggia, tutti aprirono le porte, chiedevano perdono, eccetera. Quindi Altamura chiude le porte, rinforza le mura, si munisce di tre cannoncini e comincia a difenderci, a sparare. Quando il cane Ruffo manda l'ambasciatore a dire, arrendetevi, quelli gli sparano addosso. Quindi comincia la guerra. Quelli da una parte e quelli dall'altra a sparare. Spara tu che sparo io, morti da una parte e dall'altra. E il bello di Altamura è che, ci sono delle croniche, muoiono insieme il barone e il suo pastore. Cioè combattendo insieme le classi sociali. Non era solo la lotta dei borghesi o degli aristocrati, era la lotta del popolo. E sono morti pastori, contadini, operai, artigiani, insieme ai nobili, ai borghesi che combattevano. Però i francesi non arrivano, che loro speravano che arrivassero i francesi che stavano a Barletta, come Barletta Altamura, che è lontanissimo. Non arrivano. Perché? Lo sappiamo. Perché gli eserci francesi stavano perdendo al nord. Quindi richiamano tutte le truppe che avevano al sud per tamponare quella falla. Il sud rimane scoperto. La Repubblica Sorella, così le chiamavano, non le Repubbliche Sorella, ci salpina, ci sparano, così la Repubblica Napoletana viene abbandonata al suo destino. Gli altavurani finiscono le munizioni. Non c'erano più un proiettile da sparare. Che cosa spariamo? Spariamo i candelieri, spariamo le posate, tutto ciò che è metallico. Addirittura il piombo, sapete come erano le vetrate di allora? Erano unite, i vetri erano piccoli, erano unite dal piombo. Allora sfasciano le vetrate, prendono il piombo, ne fanno palle e sparano con quello. Fino a quando finiscono anche quello, fanno l'errore di sparare delle monete. Perfino con le monete si difesa. Ecco la Leonessa di Puglia, fino all'ultimo. Ruffo, quando vede per terra il luccichio delle monete, allora sono arrivato allo stremo. Per sparare le monete non c'hanno più niente questi. Stanotte li attacchiamo. E questa fu la notte della democrazia, la chiamo io. Perché in quella notte di tregenda si riunirono tutti i capi della rivolta, borghesi, aristocrati, popolani. Che facciamo? C'era chi? Ecco i partiti, si separano. C'era chi? C'era no, resistiamo all'ultranza fino alla morte. Chi diceva, c'era il vescovo, che aveva pure benedetto l'albero della libertà, dice no, ci arrendiamo, vado io davanti con la bandiera bianca, chiedo perdono al cardinale, ci perdonerà così non ci distrugge la città. Chi diceva, insomma, il dibattito, perché io dico la notte è la democrazia, perché la decisione nasce da un dibattito, no? Questa è la democrazia, la democrazia è dialogo, è confronti, io confronto le mie idee con le tue, tu le confronti con le sue, fino a quando c'è una regola, la maggioranza vince. La maggioranza decisiva, la decisione saggissima fu, di evacuare la città. Perché dice voi volete morire, rimanete, chi vuole rimanga e muoia combattendo. Ma tutto il popolo lo possiamo condannare a morte. Così aprono la porta dall'altra parte della città dove non c'era l'assedio e nottetempo tutta la città esce fuori, si disperde nelle campagne. Mi viene ancora la pelle d'occhio quando io penso a questa scena terrificante. Nel silenzio totale, per non avvertire i nemici, le altre ordini di fare tutto in silenzio, chi raccoglieva le masserizie, chi si portava il bulo, chi si portava il trani, chi si prendeva i bambini in braccia e fuggono, si spargo nella campagna. Il carriere ruffo manda i suoi schierani calabresi, fa bruciare la porta, dice vedete ancora un tranello questo, una trappola. L'entra e dice no, nessuno ci ha sparato, nessuno ha reagito, quindi non c'è nessuno. Allora, all'attacco. Non è che va lui con i soldati, manda i calabresi, perché nella memoria collettiva di Altamura è rimasto il terrore dei calabresi. Chi un nand ceim e chi un calabrisacchiema. Dialetto l'avete capito, no? È facile da capire. Perché prima che arrivassero mandavano gli Altamurani, come si dice, le sentinelle, le scorte in avanscoperta per vedere, e quelli mandavano il messaggio, più andiamo avanti, più troviamo calabresi, perché si stavano avvicinando. Oggi nel linguaggio popolare corrente nostro, questa frase non si sta più alle origini, ma viene detta quando le cose vanno di male in peggio. Più andando andiamo, più calabresi d'occhiato, lo troviamo. Ma l'origine storica è del 1799. Per farla breve, Cardinale Ruffo distrugge Altamura, brucia, ruba, fa di tutto, ammazza. Le prime vittime furono le monache, ma non vi racconto la storia delle monache, è troppo lunga. Poi continua per Napoli e conquista Napoli la famosa battaglia di San D'Antoni, perché San Gennaro li avrebbe traditi, perché San Gennaro aveva benedetto l'albero della libertà. E loro, quando è San D'Antoni? Il 13 giugno. Sì, più o meno allora è la battaglia, si affidano a San D'Antoni e vabbè. Che succede a Napoli una volta che Ruffo è entrato con le sue truppe? Ruffo da militare, tratta con gli ultimi patrioti che si erano assagliati in Castel dell'Ovo. Come tutte le trattative, vanno indietro, vanno indietro e il loro generale, che era di Lecce, adesso non mi ricordo come si chiama, c'è anche il nome, fanno la trattativa e firmano la resa. Cioè loro si arrendono e i vincitori li lasciano salva la vita, li fanno imbarcare sulle navi, andatevi in Francia dove volete, esuli, però vi salviamo la vita. Questo era il patto. Quando questo patto arriva nelle mani di questa megera, che stava sempre a Palermo, tranquilla, no, lo prende e lo strappa. E dà ordine alla sua longa manus che stava a Napoli, cioè Nelson, l'ammiraglio Nelson, dà ordine di sterminarli tutti, non ne deve salvare nemmeno uno. Come li stermina? Con i processi farsa. Intanto questi poveretti stanno già nelle stive delle nave, pronti per partire, perché era stato promesso loro. Quindi sconfessano il Ruffo, che ci fa una figura terribile. Ma non solo Ruffo, anche il comandante russo, il comandante austriaco, ammirando come si erano battuti coraggiosamente questi patrioti, avevano firmato e anche loro vengono sconfessati dalla regina Carolina. Allora li prendono uno a uno dalle stive delle navi, dove stavano a marcire, pensate, caldo come oggi, ad agosto a Napoli, in mezzo al mare, e gli fanno questi processi farsa. Dopodiché li impiccano. Tutti! Non se ne salva uno. Perfino Ettore Carafa, duca di Andria. Era figlio, il padre era un grande principe, come si chiamava, il valetto di camera del re, era uno alto, nessuna pietà nemmeno per quello. Siccome quello era un uomo coraggioso, con tutte le catene, si avventò sul giudice, questo torturatore, disse tu hai ragione che ho le mani regate, altrimenti facevo vedere che così facevo adesso. E questo lo fa prendere dalle guardie e lo mette sul ceppo, perché come nobile aveva diritto alla decapitazione e non all'impiccagione. Questo vi dice come la legge allora, non era uguale per tutti. Perfino di fronte alla morte erano diversi i nobili dai plebei. I plebei venivano impiccati, i nobili venivano... E Ettore Carafa fa questo gesto eccezionale. Invece di tenere la testa così la gira e guarda la mannaia che gli cade sul collo. Quindi muore guardando in faccia la morte. Gesto bellissimo, eroico. Il signor Ferdinando quando glielo dico dice ha fatto guappo d'ughina. Questo fu il commento. Ha fatto guappo d'ughina. Sembra in dialetto lui parlava solo in dialetto napoletano. Bene, Carolina esplica tutta la sua ferocia, la sua crudeltà, che non solo li impicca ma li fa torturare. Quello che fu fatto di un'ora di Fonseca Pimentel e tante altre. E tante altre. Torna a Napoli. Ma dopo qualche anno arriva, chi arriva? Napoleone Bonaparte. E di fronte a Napoleone c'è il borbone che tenga. Napoleone non arriverà mai a Napoli e nemmeno a Roma. Si proponeva ma non ce la fece. La città più a sud che ha toccato dell'Italia è Tolentino, che come sapete è nelle Marche. Però lui contava di fare di Roma la seconda capitale del suo impero. Parigi era la prima. Tanto è vero che manda i suoi architetti, i suoi ingegneri, i suoi artisti al Quirinale. E si fa cambiare le stanze. Si fa lo studio per sé, per la Giuseffina. E infatti noi abbiamo fatto una visita al Quirinale guidata da un consigliere bravissimo che ci hanno spiegato tutte le modifiche che Napoleone fece fare perché doveva diventare la sua regia. Poi le cose andano come andano ne parliamo più. Va bene, i napoleonidi, due napoleonidi, il fratello Giuseppe, il cognato Mural diventano re di Napoli. Per un decennio noi abbiamo la modernità. Cioè questi re portano il codice napoleonico, per esempio il divorzio, la posizione della pendimorto, quelle cose che già i patrioti del 99 avevano previsto e loro lo attuano. Poi le cose vanno come vanno. Io vado veloce perché è già tardi credo. Miura viene ucciso malamente quando tenta di riconquistare il regno sbarcando a Pizzocalabro. Viene tradito e viene fucilato. Prima di essere fucilato in carcere lui scrive una nobilissima lettera a Re Ferdinando dicendo noi siamo stati nemici per tutta la vita. Tu hai combattuto me, io ho combattuto. Fa un discorso da soldato reale, no? Se avessi vinto io, io ti avrei lasciato libero alla vita e ti avrei restituito alla famiglia. Ti chiedo altrettanto, restituiscimi alla mia famiglia, non ti chiedo altro. Quando il signor Ferdinando rozzo come era, volgare come era, riceve questa lettera, sapete che fa? Quel gesto volgare di pulirsi. Da qui voi vedete lo spessore umano di queste persone. Quello che prigioniero, sconfitto, sta per morire, chiede grazie, la chiede in maniera... Quello che risponde con un gesto è degno del menino, degno di ribelli. Questa era la monarchia borbonica. Come si fa a rivalutarla? Come si fa oggi questi neoborbonici che li esaltano? Ma per carità, per carità. Saltiamo all'altra regina e chiudiamo. Di questo non si ricorda più nessuno, perché vi ho detto che ha fatto pochissimo la regina, per meno di un anno credo. Poi riconquistare il regno. Prima sostiene moralmente i soldati borbonici nell'ultima difesa di Gaeta. Infatti viene celebrato in Europa l'eroina di Gaeta perché sta vicino ai soldati. E vabbè. Poi se ne vanno in esilio, prima a Roma, dal Papa, il solito Papa che è, e poi a Parigi. E lei frequentemente se ne va a Monaco perché lei era di Monaco. Mi spiego. Allora qual è la sua sciaguratezza? Qual è l'accusa che io le faccio? Storicamente parlando. Non di essere una puttana come quelle del Trecento. No, anzi era morigerata, era... Voi pensate che per anni non ha consumato il matrimonio col marito. E perché? Possiamo dire, dottore? Perché il marito aveva una fimosi. Dottor lo spieghi lei così la fimosi. È un piccolo, come dire, impedimento sull'organo sessuale maschile che non gli consente di fare l'atto di... E allora quando... Però pare che è un impedimento anche dei bambini si fa appena nascono. È una cosa semplicissima. Basta tagliare un po' il prepuzio e l'ordo torna normale. Bravo. Come una circoncilla? Uguale. Gli ebrei la fanno tutti. Questo cretino di Franceschiello, chiamato Scamorza da suo padre, non da me, da suo padre, chiamato Scamorza. Avete visto qualche fotografia? Così. Proprio come una Scamorza Pannuto. Diceva ai suoi medici, è mica io sono ebreo che mi devo fare, mi devo far circoncilla. No, non sia mai. E quindi non riusciva a fare lavoro con la moglie e a dare un erede al trono. Solo in esilio a Roma, non so chi e perché, lo convinsero, si fece l'intervento e la moglie rimase incinta. Finalmente ebbero una figlia, ma non furono capaci neanche di crescere questa figlia. Stava parlando a bambini, piccolissimo morì. E sapete perché? Perché l'affidarono ad una nurse inglese, anzi scozzese mi pare. Questa qua, con i pesi scozzese, faceva la bambina il bagno freddo di acqua ghiacciata. La curava col whisky. La povera criatura, dopo qualche anno si morì. E tu sei madre, tu sei una sciagurata. C'è l'unica figlia che sei riuscita ad avere. Dopo tanti anni non te la curi, non te la coccoli, non te la curi tu. La lasci a una prezzolata straniera con altri metri e altre idee. Cioè anche per me questa è una colpa grave di questa donna. Ma sta potuto fare né la regina, né la moglie e ne manco la madre. Ma la colpa più grande, vediamo se trovo, troviamo l'immagine nell'ultimo capitolo dove... E' uscito il primo colpo. Questa è una rarissima immagine, scavando subito a trovarla, in cui si vede re Franceschiello che consegna a un brigante un forziere pieno di oro. Questo hanno fatto Franceschiello e Sofia. Ci hanno finanziato il brigantaggio. Cos'è stato il brigantaggio? La prima piaga dell'Italia Unita. La prima guerra civile dell'Italia Unita. E chi l'ha fomentato? Questa disgraziata. Questa tedesca. Che se ne poteva dare tranquillamente a casa sua. E io faccio... Pensa che... I Savoi, quando conquistavano tutta l'Italia, si presero tutti i tesori di Napoli, di Parma, di Frendito e per tutto. E tutti i tesori di Borboni. Lei chiese la restituzione. I Savoi dissero sì, noi ti restituiamo tutto, purché tu dichiari che rinunci al trono. No! Non sei mai rinunciato al trono. Allora, che cos'è tuo? Non è regalità, è avidità, è desideri tornare nei privilegi di tornare al tuo ruolo di regina che non hai potuto esercitare perché è durato pochissimo. Cioè, negazione della storia. Perché come la storia andava avanti, l'Italia Unita era riconosciuta da tutta l'Europa, era cambiata le cose. E lei no, si ostinava a volere il trono di Napoli. grazie ai briganti. Cioè, loro me lo conquisteranno. Ma che regina sei tu? Cioè, loro faranno un esercito tale, capace di sconfiggere i piemontesi, loro dicevano i piemontesi, ma ormai erano italiani perché l'esercito era fatto da tutti, e di ridarci il trono di Borboni. È stato possibile? No! Perché, prima di tutto, quello dei briganti non era un esercito. Era un insieme di bande. Bande di chi? Bande di delinquenti, di assassini. Perché il brigantaggio nel sud, e non solo nel sud d'Italia, è sempre esistito. Non è che è inventato nel 1861. No! Sempre! 500, 400, sempre. Io l'altra sera mi sono occupato di Walter Chiari. Voi sapete tutti chi è Walter Chiari? Il comico, no? E ho invitato uno storico che aveva studiato la storia di Ciro Annichiarico. Chi era questo? Un antenato di Walter Chiari, che è stato un brigante. Ai primi dell'Ottocento, qui non c'entrava niente, l'Italia, i Piemontesi. Era un prete, un prete intelligente, capace, eccetera. Per questione di donne, fu accusato di aver ucciso un amante di una donna che avevano in comune, insomma. Però lui diceva che, infatti, prove non ce n'erano perché l'assassinio era stato visto, ma aveva il cappuccio dei frati, non dei confratti. Questo poveretto fu accusato ingiustamente. Per farla breve, per sottrarsi alla mala giustizia, si dette la macchia e diventò brigante. Ed è stato l'unico brigante nella storia del brigantaggio che aveva un po' di cultura e soprattutto aveva qualche idea politica. Perché non è vero che i briganti avevano l'idea di conquistare il trono ai Borboni. Qual è l'idea politica di Don Ciro Annichiarico? Addirittura la democrazia, la repubblica, pensate. Idea utopica, ovviamente. E lui si fece capo dei decisi, che era una delle sette carbonare dei primi dell'Ottocento. Quindi siamo nei primi dell'Ottocento e lo fece arrestare, ammazzare il re Ferdinando. Quindi non c'entra niente con l'unità d'Italia. Il brigantaggio è sempre stato. Quindi in questo periodo aumentano perché il Piemonte, l'Italia, impone la coscrizione obbligatoria e i giovani contadini non volevano andare a fare soldati. Altrimenti le terre rimanevano, come sapete, si chiamano proletari, che l'unica ricchezza è la prole, cioè i figli che coltivavano la terra e mandavano avanti la baracca. E quindi tutti questi che sfuggono alla leva militare, si chiamavano, come si chiamavano? Renitenti. I renitenti alla leva scappano sulle montagne e si aggregano ai briganti. Perché ci sono bande numerose. C'è Carmine Crocco che riesce a fare una banda di 3.000 persone. quasi un esercito. Però di questo esercito non si trovava il capo. Un esercito, per definizione, organizzato gerarchicamente a un capo ed è il capo, deve essere carismatico per trascinare l'esercito. Non si trovava un capo. Refrageschi aveva molti fratelli lastri della seconda morte del padre, ma erano tutti fifoni questi borbonici. Nessuno accetta di andare a fare il comandante dell'esercito, della reconquista. Fino a quando si presenta a lei, a Sofia, un generale spagnolo, Borges, José Borges, era un generale dell'esercito borbonico spagnolo, fedele ai Borboni, lì c'era stata la Scovizia, le scappe in Italia, e va a offrire la sua spada a Maria Sofia. Dice, ma è sta, io ti riconquisto il troppo. E finalmente gli sta succedendo quello che è successo a Palermo, fra Carolina e Cardinale Ruffo. Questa volta c'è Borges. Va bene, lo riempiono di soldi, denaro, monete, armi e tutto, e lo mandano a trattare con i briganti. Tratto col primo, col secondo, non guaglia niente, fino a quando arriva Crocco, che era il più grosso, il più famoso, anche forse il più intelligente. E comincia la trattativa. E sì, e no, e qua, e là, e su, e giù. Fino a quando Crocco gli dice chiaramente, perché poi dici, il generale sarò io che ho avuto l'incarico dal re e dalla regina. Tu sarai il mio vice, io il vice tuo. Io comando, devo comandare dove voglio e come voglio. Cioè proprio lo spirito del brigante. Quindi non accetta la gerarchia militare, non accetta l'esercito. Quindi l'esercito borbonico nuovo non nasce mai. Rimangono bande di criminali che assaltano città, masserie, carrozze, di tutto di più, uccidono, stupro. Non vi dico quello che fanno, è ributtante leggere le imprese dei briganti. Sto vedendo in questi giorni, non so se l'avete visto anche voi, il film Briganti che ha fatto Netflix. Lo trovo molto bello per come è fatto. Anche perché non accendo per niente l'aspetto politico, che è un falso storico secondo me. Ma fa vedere queste diverse bande. Le une contro le altre, si ammazzavano gli uni con gli altri. A un certo momento in questa banda vedono uno con un tatuaggio. Oh, vedete? Che cos'è? Il tatuaggio di Crocco, che era un altro brigante. A morte perché non era della loro banda. Questo vi dice come erano divisi, sparpagliati. Vi spiego. Quindi la causa politica non esiste. Se esiste è proprio inconsistente. E infatti tutto il filmato di Netflix gioca sull'oro. Perché la trama è che i garibaldini, quando hanno conquistato Palermo, si sono preso l'oro di Palermo. E si vede proprio il trasferimento di queste casse di lingotti d'oro sul traino. E la ricevuta, si prendono in prestito, saranno restituiti. Di questo oro si perde traccia. Allora tutta la storia è di questo brigante o pseudotale che va a caccia di questo oro. E poi tutte le storie. E quindi, voglio dire, è anche una rivisitazione, questo film, della faccenda dei briganti. Che si era troppo, come dire, focalizzata su pro e contro. Chi diceva pro perché i briganti erano pro borbonici. Li fanno passare per patrioti. Ma quali patrioti? Erano volgari assassini. Ma quali patrioti? I patrioti, i nostri patrioti. Su Facebook si leggono delle cose assurde. Lo vedi. I patrioti del sud. Ma lasciamo perdere. Quindi, Sofia di Baviera ha la colpa grave di aver segnato l'unità d'Italia con la prima guerra fratricida. E questa parola l'ho trovata proprio l'altro giorno studiando un testo di Garibaldi che al Parlamento piemontese, dove lui per un certo periodo fu deputato, parla di questa guerra fratricida che avete scatenato dalla colpa ai militari. Guerra fratricida. La colpa di questa fratricida. Non al 100%, ma all'80% e di questa sciagurata regina. Grazie. 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 Maritatissimo applauso. Io ho preferito lasciare parlare Bianca ed essere semplicemente un introduttore. Manca un punto di riferimento che mi sono venuto a te. Perché sapevo che insomma ci avrebbe dato tanti spunti che potrete naturalmente approfondire nel suo libro Le sciagurate regine di Napoli che trovate in vendita alle vostre spalle. L'autrice, credo che se ci consentono di rimanere qualche minuto ancora vi potrà fare le dediche, le autografi. Io ringrazio i padroni di casa che ci hanno ospitato in questo luogo veramente meraviglioso. Io ci vengo spesso per ammirarlo. Essere protagonista è anche molto bello. Ringrazio Carlo Mansueto e la cooperativa Armida per la fiducia che mi danno tutte le volte e ringrazio voi per essere stati in nostra compagnia e naturalmente Bianca Adrani. Se avete delle domande io sono a disposizione.